Buongiorno innanzitutto, siamo a Monte Carlo con CRM. Quest'anno abbiamo di nuovo il piacere di presentare Cioppi Cioppi, la nostra miraglia. Siamo non solo orgogliosi, ma anche di altro stiamo avendo un buonissimo ritorno da questo salone. Stiamo lavorando per fare nuovi progetti, sviluppare nuovi progetti, che stiamo iniziando a presentare a questa fiera. Speriamo che questo ci porti a sviluppare ancora di più delle features nuove sulle barche, di creare un nuovo modo di vivere per gli armatori, di essere ancora più vicini al mare. Speriamo che questo ci porti fortuna e ci porti anche tante vendite in mercati nuovi. Dove stiamo lavorando stiamo investendo tanti fondi e soprattutto tantissime energie. Dal punto di vista sia culturale, perché stiamo cercando di capire nuove culture, stiamo cercando di trovare nuove soluzioni, ma anche dal punto di vista qualitativo, perché vogliamo fare ancora un ulteriore step rispetto a ciò che vogliamo arrivare ancora a fare meglio e meglio sempre.